Sì, ha superato la questione, se è calentato. Già ho un'occasione di coltività, se è un problema, se è un'incrotecta di coltività, se è un problema, se è già un problema, se è una difesa notevole, perché è un'inclusa della schierola, se è incalzato, e se è un problema, se è un problema, se è una scimitaria, se è una tratta, se è una cabine, o già a due anni, che non si è rotta bene, se è un'occasione, Grazie. Grazie.